Benvenuti a tutti, è un piacere questa sera essere qua con voi. Diciamo che è una serata, io sono Daniela, faccio parte di Terra Viva già da qualche anno. È una serata dedicata all'alimentazione, però con un approccio diverso, è un approccio olistico, è un approccio che vede la persona nella sua totalità, perciò un benessere attraverso il cibo per raggiungere il benessere di corpo, mente e spirito. Lo faccio in compagnia di Beppe, sì vero? Lo posso definire un appassionato di nutrizione, perché lui veramente la vive con tutto se stesso, con il cuore, oltre che ad essere un consulente di macrobiotica, è presidente e insegnante alla scuola di Sciazzo del Sole Luna di Parona, ha conseguito il diploma di, ha fatto olistica e guarigione all'istituto internazionale, vero? Non è un macrobiotica in Svizzera? È in Svizzera, è anche un ricercatore, si è approcciato anche alla bioenergetica, perciò con approfondimenti e terapie di bioenergetica, ha condotto seminari di alimentazione in tutte le città d'Italia, ha gestito per più di dieci anni, è stato uno dei primi a gestire un ristorante vegetaliano in centro, a Verona, ma credo anche il primo in Italia, uno tra i primi. Non il primo, ma fra i primi. Fra i primi. Io l'ho incontrato nel mio percorso di Sciazzo e posso dire che è una persona di alto profilo professionale, ma soprattutto un uomo di grande saggezza e di grande sensibilità. Una cosa che vorrei dire, la scelta di mangiare cibo sano, non contaminato da sostanze chimiche è importante, è importante per noi e per i nostri cari, per i nostri figli, ma non solo, ma è importante perché va a consolidare un modo diverso di fare agricoltura e va anche a sostenere un modo diverso di fare agricoltura. Può essere biologica, può essere biodinamica, questa sarà una scelta vostra. Io lascio adesso la parola a Beppe, se poi ci sono domande, vero Beppe, hai la prima momento di presentazione e poi le domande arriveranno, lui volentieri sarà pronto a rispondere. Grazie. 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 Io ho la prima pagata Daniela che ringrazio moltissimo per tutto quello che ha detto, però adesso mi sento ancora più impegnato perché dopo tutto quello che ha detto io voglio fare bellissimo signifino. Dopo questo po' di presentazione... il giuricolo c'è mi sento un po' imbarazzato io ho cominciato la mia ricerca tantissimi anni fa nel 78-79 e per me la ricerca è continua, non è mai finita per cui io sono qui questa sera per portarvi la mia esperienza non ho nessuna abilità di avere la vita in tasca di quello che è giusto e quello che è sbagliato io vi porto la mia esperienza cercherò di sottolineare di più alcuni aspetti che di solito non sono sottolineati un po' perché di quelli di aspetti nutrizionali ho visto che anche noi nel precedente abbiamo fatto altre conferenze ne è già stato parlato di fondo un po' perché se voi andate dove volete su internet, sui libri, sulle riviste non si fa altro che parlare di nutrienti di quello che nutri e di quello che non nutri per cui se volete informazioni su questo argomento ne trovate a montare veramente a montare una cosa che vi invito a riflettere è di stare attenti a quello che leggete a quello che prendete perché non sempre quello che viene detto è funzionale alla salute molto spesso e purtroppo perché questa è la realtà quotidiana siamo in una società che si chiama capitalistica per cui la funzione lo scopo principale è vendere per cui spesso mascherano informazioni dietro a delle pseudo vendite o tale o pseudo tale insomma per cui state un attimo a tempo perché non tutti sono così ma lavorano su questo aspetto di dire che una cosa fa bene o fa male in base a quello che devono vendere o non vendere oppure di ingrare o non vendere non sempre dietro a quello che dicono c'è una verità scientifica poi attenzione anche al fatto di prendere troppo la lettera a quello che viene definito scientifico perché anche lì potete trovare tantissime informazioni se voi andate a leggere quello che hanno scoperto i fisici quantici negli ultimi 5-10 anni Rubia, Marti e altra gente scoprirete che quello che era definito scientifico fino a 10 anni fa scientifico non è più tanto perché hanno messo in discussione la definizione di scientifico la definizione di scientifico è in 10 fanno una prova e tutti hanno lo stesso risultato fanno una prova tutti nella stessa maniera perché si passano i protocolli e tutti hanno lo stesso risultato i fisici quantici hanno dimostrato che il risultato valga in base all'osservatore cioè se cambia l'osservatore può cambiare il risultato per cui la definizione di scientifico è stata messa in discussione parecchio della fisica quantica e come dice Rubia nei suoi libri dice io da quando studio la fisica quantica mi sto avvicinando sempre di più a Dio cioè a quello che non è tangibile allo sconosciuto al difficile da interpretare al difficile da interpretare per cui io come si può dire starei un po' attento alle informazioni che sono raccolte e il mio scopo principale è quello che faccio per me per cui anche quello che cerco di fare per gli altri non è quello di prendere delle informazioni ma è quello di cercare di educare me e gli altri a fornirsi a prendere degli strumenti che ti aiutino a capire il conto diceva Daniela che io ho studiato l'intervento del macrobiotico in istituto io sono un cosquente macrobiotico ecco purtroppo la macrobiotica è sempre stata vista per colpa dei macrobiotici come un modo di mangiare quegli strani che mangiano la tutta di viso le aghe il riso integrale e tutte queste cose in realtà la macrobiotica è una filosofia non è un modo di mangiare è una filosofia e come tutte le filosofie fa domande ma non dà risposte la filosofia è questo la filosofia ci spinge alla ricerca attraverso delle domande le risposte sono dentro di noi in base all'attitudine di ricerca che fai cioè fornisci degli strumenti perché poi ognuno trovi la risposta per sé ora quello che cerco di fare io è di aiutare la gente a trovare la risposta per sé questo perché? perché siamo tutti diversi semplicemente non si può applicare una regola uguale per tutti perché essendo ognuno diverso da un altro la stessa regola va adattata alle persone alle situazioni alle esigenze al clima a tutta una serie di fattori che possono cambiare concretamente il risultato finale delle risposte per cui il mio invito è a fare una ricerca non a prendere dei domini non a prendere le cose preconfezionate e applicarle alla lettera le cose preconfezionate cioè quelle schematizzate hanno un'utilità che ti danno un'indicazione di massimo poi da queste indicazioni di massimo bisogna tirar fuori quello che noi riusciamo a fare quello cui noi riusciamo a adattarci e usare solo quello non tutto quello che ci viene detto all'interno di quella regola io sono dell'idea che quando una persona prende una regola alla lettera è perché non sa che da le parti girarsi cioè è insicura di fondo ha bisogno che ci sia qualcuno che gli dice cosa fare io invece cerco per me per cui quello che insegno cerco di fare anche questo cerco di fruire alle persone degli strumenti perché provano a cercare da se stessi quello che bisogna fare per se stessi e lo strumento una volta acquisito è tuo non lo puoi più dimenticare perché l'hai imparato basta è come andare in bicicletta no? una volta che hai imparato andare in bicicletta anche se la lasci in altra Italia poi te la prendi in mano e riesci a andare ancora per cui una volta imparata una cosa è difficile dimenticarla mentre è molto facile dimenticare una cosa che ci è stata imposta da fuori che non è nostra è di un altro che noi magari abbiamo imparato a memoria sono come le poesie ma poesie le imparate a memoria non le recitate più per dieci anni e ve le siete dimenticate perché è qualcosa di un altro oppure ricordate solo quelle poesie che colpiscono che vi lascia c'è un segno dentro e allora quelle vede ricordate capisco che è molto più facile che ci sia qualcuno che ci dici cosa fare piuttosto che mettersi alla ricerca per noi stessi cosa fare no? ci vuole più tempo ci vuole più attenzione ci vuole più sacrifici anche per fare questo mentre se io prendo una cosa che già fatta non faccio altro che applicarla ci vuole molto meno però io sono convinto di una cosa questo vale la mia alimentazione vale ancora di più nello sciazzo che è il mio provore principale che una cosa che si impara in fretta dura poco una cosa che dura tanto ha bisogno di tempo per essere acquisita per cui ci vuole il suo tempo perché le cose acquisiscono e vengono acquisite e in questa società dove c'è tutto di corsa cioè le cose non le avevano fatte ieri no questa è una cosa difficile perché la società spinge ad avere tutto subito però guardate che il tutto subito inizia e finisce anche tutto subito per cui bisogna stare un attimo attenti a questo aspetto perché veramente rischiamo di prendere 10.000 cose e di non avere niente che sfumano nel giro di poco tempo perché sono aleatori sono quelle che si chiamano sovrastrutture sono cose che non sono nostre ma che ci sono imposte dall'esterno voi mi direte cosa c'entra questo col cibo c'entra una misura in cui noi dobbiamo diventare padroni di noi stessi anche nella scelta del cibo cioè dobbiamo acquisire delle conoscenze di noi e delle conoscenze del cibo tali che ci permettono di scegliere come diceva il fondatore della macrobiotica Giorgio Sawa che era un giapponese che ha preso il nome francese diceva l'uomo sano mangia di tutto prima di tutto è in grado di mangiare di tutto ma soprattutto l'uomo sano è sempre in grado di scegliere il cibo giusto al momento giusto cioè di capire con la testa con il corpo con lo spirito qual è il cibo che in quel momento dell'esistenza serve a noi questo c'è bisogno che io sia qua che parlo c'è bisogno che ci siano dei siti internet che ne parlano dei libri che ne parlano perché noi abbiamo perso quello che si chiama istinto se i miei nonni i miei nonni i miei bisnonni non avevano bisogno di fare questi discorsi per due motivi principali primo perché da mangiare c'era quello e non è che ci fosse tanta altra scelta c'erano quelli europei e poi perché capivano per l'istinto perché avevano ancora questo istinto animale più legato alla natura più legato ai ritmi naturali per l'istinto qual era il cibo che andava bene e qual era il cibo che non andava bene per loro era più semplice avevano come si dice meno sovrastrutture di noi per noi è più difficile perché gli stimoli ad andare contro questa cosa sono quotidiani continui sono guardate che se voi ci fate caso nelle canzoni nella pubblicità come vengono scritti i libri in tantissimi aspetti si va sempre in quella direzione si chiama consumismo e da lì non ci si scappa prima si parlava dell'agricoltura biologica uno dei motivi per cui l'agricoltura biologica non funziona è perché va contro il consumismo l'agricoltura biologica ha bisogno di ritmi naturali e di tempi lunghi l'agricoltura chimica è molto più veloce e rende molto di più al momento se si sommano i danni che fa l'agricoltura chimica nel giro degli anni allora rende molto di meno negli Stati Uniti tutti i terreni che sono stati resi aridi dall'agricoltura chimica li stanno rifacendo facendo l'agricoltura biologica adesso e là ci sono centinaia di miliardi di ettari in queste condizioni resi aridi da l'accesso di fungine per cui loro adesso stanno facendo due campagne un'altra parte un sacco e di chi li butta dietro per produrre tanto e l'altra dello Stato che vuole recuperare dei terreni e per cui spinge perché vengrà fatta la recuperazione biologica perché quella è l'unica via per cercare di recuperare quello che è stato perso quando si parla di queste cose il rischio più grosso che si fa è di creare le contrapposizioni l'agricoltura biologica contro l'agricoltura chimica e secondo me questo è un errore è un errore perché come diceva qualcuno prima di me io non vado a fare manifestazioni contro la guerra io vado a fare manifestazioni per la pace che è diverso anche se è la stessa cosa poi tradotto in termini non pratici è diverso come tipo di atteggiamento io non sto lì a guardare se c'è la guerra la guerra c'è perché c'è io faccio altro e faccio le manifestazioni per altro e per cui noi dobbiamo se ci crediamo fare quello che vogliamo che pensiamo sia giusto fare indipendentemente da quello che fanno gli altri io sono stato uno stonanodista del vegetale io sono vegano da trent'anni e quando parlo di veganesimo la gente ci resta male soprattutto gli animalisti c'è stato Trespiri l'anno scorso che ho parlato l'anno scorso lavorando mi ricordo che ho visto i filmati sugli occhi Riccardo Trespiri che è un medico vegetariano vegano animalista il presidente della situazione animalista di Verona e io mi definisco vegano e mangio la carne questa è la cosa che sta un po' in contraposizione perché io sono vegano dentro però non me la sento di vivere isolato se qualcuno mi invita a casa sua e fa la carne io le mangio un pezzettino non posso dire no non vengo grazie a tutti che sono vegano io preferisco stare nel sociale e ne mangio poca però questo non lo sento un tradimento al mio essere vegano lo sento semplicemente che mi adatto a quello che è la situazione poi a casa mia faccio quello che voglio io però a casa mia è trent'anni che la carne non entra per cui perché poi vi spiego anche perché la mia non è una scelta ideologica la mia è una scelta di piacere io non ho mai fatto una scelta alimentare perché non mi è stata imposta o perché ho detto che questo fa bene questo fa male io l'ho sempre fatta perché mi piaceva per cui quello che sto facendo io da trent'anni è perché mi piace non perché è di moda non perché mi è stato imposto non perché è bello così perché a me piace è quello che sento meglio per me per cui secondo me non è giusto o sbagliato mangiare carne è giusto o sbagliato eventualmente mangiare carne se la carne non fa bene è giusto o sbagliato mangiare i vegetali se i vegetali non fanno bene dipende da quello che ha una persona per cui quando io parlo di alimentazione io parlo sempre di scelta consapevole questo è quello che interessa di più a me personale non è che uno sia vegano che sia carnevolo che sia basta che sappia quello che fa che abbia la coscienza di quello che fa e secondo me se tutti facessimo così sarebbe un passo enorme avanti verso la salvaguardia del pianeta perché se tutti avessimo la consapevolezza di quello che facciamo staremo un po' più attenti a qualsiasi cosa facciamo guardate che se voi siete attenti a come mangiate starete attenti a come vivete starete attenti a come camminate starete attenti a tutto quello che fate e deve diventare un'abitudine le pratiche orientali che io faccio sciazzo le pratiche giapponese hanno come linea di guida la ripetitività del gesto loro dicono tutti devi ripetere il gesto fino a quando non diventa parte di te tu devi continuare a farlo continuare a farlo continuare a farlo e a un certo punto il gesto diventa automatico non ci devi più pensare quando è diventato automatico puoi pensare a un altro gesto che diventerà automatico puoi pensare a un altro gesto e così piano piano ti arricchisci ti riempi ti fai diventi più ricco ricco di cose che ti arrivano per cui bisogna stare bisogna starci dentro nelle cose quando si trovano non si deve rinunciare subito per me la consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento se non si conoscono le cose non si possono cambiare per poterle cambiare bisogna conoscere io vi farò vedere questa sera un'altra faccia dell'alimentazione cioè non quello che dicevo prima la nutrizione proteine vitamini tutte queste cose ma un aspetto che è più legato alla mente e allo spirito per spirito io intendo le scelte che una persona fa lo spirito e la religione sono due cose un po' diverse lo spirito è la capacità di fare delle scelte per sé la spiritualità è intesa in questo senso è una ricerca non è dogma è una ricerca per cui quando si parla di cibo per lo spirito è il cibo che ci aiuta della ricerca costante della nostra vita il cibo come aiuto a vivere meglio e questo secondo me è indipendente da i principi dai dogmi dalla regola perché poi quello che ci aiuta di più vi ripeto è la conoscenza del cibo e di noi adesso comunque vediamo alcuni aspetti io ho messo lì parlare di queste cose ci vorrebbe qualche mese cioè per approfondire un po' le cose no però io metto via alcune cose e poi se volete ne parliamo un attimo vediamo un attimo come si possono affrontare come si possono discutere e soprattutto come queste cose possono essere viste senza che diventino un dilemma comunque adesso vediamo allora prima di tutto volevo definirvi cosa sono gli alimenti perché questo è importante questa definizione io l'ho trovata in varie parti questa l'ho presa da wikipedia spero che tutti sappiate cosa è wikipedia wikipedia è una specie di ciclo che c'è su internet e però è una definizione che potete trovare su tantissimi libri perché è abbastanza condivisa gli alimenti sono organismi animali vegetali o loro derivati che l'uomo ha selezionato nel corso dei millenni in relazione alla loro reperibilità e ha la loro capacità di rispondere a quello che si chiama sostentamento biologico cioè non serve mangiare ah scusate io per alimento intendo tutto quello che viene ingerito per cui sono alimento il fumo sono alimento le droghe le medicine tutto quello che viene ingerito perché tutto quello che viene ingerito anche l'aria per certi aspetti anche se non è proprio il fumo anche quella fa parte del giorno del datorismo per cui tutto quello che viene ingerito per me è un alimento a cosa servono? ma è banale da un punto di vista biologico noi siamo una macchina questa macchina ha bisogno di benzina e gli alimenti servono a dare la benzina non solo perché è una macchina che si distrugge che si consuma dal nostro corpo per cui ha bisogno di essere rigenerato per cui gli alimenti cosa ci danno? la benzina e le sostanze per poterlo di generale siamo proteine e zuccheri e sani minerali questi proteine e zuccheri grassi sono le sostanze che servono per la costruzione plastica e per la funzione energetica poi sani minerali e vitamina servono per aiutare le proteine i grassi e gli zuccheri a svolgere a svolgere le loro funzioni per cui l'uomo ha preso delle cose nel giro di migliaia di anni l'uomo sapiens dice 12.000 anni di vita noi siamo nati come una razza di 12.000 anni fa circa per cui nel giro di questi 12.000 anni l'uomo ha cercato di selezionare tutta una serie di sostanze che gli servivano per poter vivere per poter sopravvivere e vivere queste sostanze erano legate alla reperibilità sul territorio e attenzione alla digeribilità una sostanza per essere usata nel nostro corpo deve essere digerita cioè trasformata leggete continuamente sui giornali che noi abbiamo bisogno di tanti sali minerali no? troverete spesso scritto che bisogna sali minerali la più grossa concentrazione di sali minerali che c'è al mondo sono le pietre i minerali però noi non mangiamo mai pietre perché noi le digeriamo per questo motivo se noi digerissimo le pietre saremo a posto come minerali basta mangiare un sassolino e abbiamo minerali in abbondanza è che noi non le digeriamo dobbiamo prenderli in posti dove per il nostro corpo è possibile usarli per cui è importante che un cibo sia digeribile cioè il nostro corpo lo possa trasformare attenzione che questo è un aspetto che viene spessissimo sottovalutato meno digerisci i pearoni ma li è così buoni e li mangiano perfetto li mangi ma guarda che non li digerisci cioè il tuo corpo non li può usare ma non solo non li può usare provoca dei problemini perché il corpo le consostanze che non può usarle deve eliminare e per eliminarle si fa un lavoro in più per cui è importantissimo che quello che mangiamo per noi sia digeribile poi c'è chi digerisce i peperoni e c'è chi non li digerisce c'è chi non digerisce i lavorsiori e c'è chi invece li digerisce siamo diversi per cui bisogna che teniamo conto di questa cosa da questo punto di vista parlando in generale i cibi animali sono i cibi più difficili da trasformare per il nostro organismo mentre i cibi vegetali sono un po' più semplici da trasformare all'interno delle sostanze i grassi sono sostanze più difficili da digerire da trasformare però sono importanti perché sono quelli che danno la benzina quelli che forniscono la benzina nel tempo i grassi si consumano nel tempo i zuccheri sono un po' più semplici perché i zuccheri sono invece sostanze che devono essere usate subito e la benzina è immediata del nostro corpo per cui sono un po' più semplici da digerire per cui queste piccole nozioni bisogna conoscere bisogna conoscere perché perché noi non ci ascoltiamo più e i miei maestri in una periodica che però hanno preso dalle vecchie cose dicevano che perché un cibo venga digerito deve essere masticato almeno 30 volte in un po' più ma questo diceva che mia nonna non occorre andare a scomodare gli scienziati e queste cose ma diceva che mia nonna per cui si diceva da noi bisogna masticare i liquidi e bere i solidi nel senso che l'acqua non va in buzza tutto in un colpo va tenuta in bocca e il solito deve essere trasformato in maniera tale che possa essere bevibile per cui l'ho masticato tanto provate controllate quello che fate se masticate 5 volte 6 siete bravini siete già sulla buona strada la maggior parte delle persone mastica 2 3 4 volte quando la maggior parte provate è che non ci facciamo caso a questa cosa non ci pensiamo però questo è fondamentale perché il cibo venga digerito bene per dire c'è una sostanza della saliva che è quella che serve per digerire i zuccheri c'è solo nella saliva se non si mastica quando vanno giù i zuccheri sono più difficili di digerire perché non sono stati imbevuti di ptialina questa è la spiegazione scientifica del perché bisogna masticare però mia nonna che non sapeva niente di scienza diceva lo stesso bisogna masticare per cui basterebbe prendere un po' di saggezza per i nostri vecchi per fare avere un approccio un attimo più alla portata dell'essere umano questo è quello che serve l'alimento però però c'è un però però è questo è l'avidità quando che noi ci troviamo a mangiare del cibo non perché ce n'è bisogno ma perché ne abbiamo voglia difatti quando il sostentamento biologico è a posto il cibo viene usato il cibo assume significati diversi che sono di tipo culturale e di tipo simbolico cioè in altre parole come se quando siamo passuri quando siamo pieni il cibo quando siamo a posto che non abbiamo bisogno di cibo il cibo viene usato per scopi diversi da quello del sostentamento biologico e quel cibo lì che viene usato così per il nostro corpo è in più non serve perché quello per il sostentamento biologico l'abbiamo già preso quello che mangiamo oltre a quella cifra di viene usato per scopi che sono diversi da avere bisogno di proteine diversi di l'interno che sono simbolici per cui dal punto di vista fisiologico non servono a nulla però servono per altri motivi che adesso piano piano vediamo sempre per portare questa cosa a livello comprensibile per portarla a livello scientifico è dimostrato cioè è dimostrato che l'italiano medio che non esiste però non esiste l'italiano medio cioè si dice che l'italiano medio mangia una gallina vuol dire che ce n'è qualcuno che ne mangia due e qualcuno non ne mangia neanche una mediamente come si dice però mediamente l'italiano avrebbe bisogno di mangiare tra i 2.000 e i 2.200 calorie al giorno il consumo reale di calorie in Italia è intorno ai 3.400 calorie allora l'italiano medio che non esiste mangia più di 1.000 calorie al giorno in più oltre a quelle di cui ha bisogno per il proprio sostegno attenzione che qui non si può fare delle massificazioni è chiaro che l'impiegato avrà bisogno di meno calorie dello scaricatore di porto o l'atleta avrà bisogno di molto di più calorie perché invece sta seduto tutto il giorno davanti al computer è chiaro questo no l'università c'è però diciamo che mediamente l'italiano mangia intorno ai 1.000 calorie al giorno in più che è più o meno un pasto più o meno un pasto vale dai 900 a 1.200 a 1.300 calorie per cui quelle 1.300 calorie in più sono usate per questo motivo non per motivi biologici ma per motivi simbolici per motivi che vanno al di là dell'esigenza fisiologica del corpo ed è di questo che voglio parlare di io perché poi alla fine quello che succede è che noi in realtà avendo a disposizione tanto cibo usiamo tantissimo il cibo per altre cose e dobbiamo avere chiara questa cosa qui cioè quasi tutti noi scegliono il cibo non perché hanno la coscienza che quel cibo serve per questo a tot proteine tot minerali tot vitamini tot grassi tot questo tot terato non per quel motivo di questo tutti noi scegliamo il cibo perché mi piace o non mi piace questa è la scelta principale che facciamo noi raramente sono una percentuale piccola le persone che o perché sono in dieta o perché hanno la coscienza o perché sono studiosi o non so seguono il cibo anche in un'altra maniera cosa ha avuto mai avanti beh govoria di pasta suda col tono allora la pasta suda col tono ha un significato preciso per quella persona gli piace e la persona quando dice così non pensa allora nella pasta ci sono 10% di proteine poi c'è tocca minerali nel tono ci sono questi grassi per cui oggi devo pensare la pasta col tono nessuno fa questi grassi con il tono tutti dicono che buona la pasta col tono ed è questo che ci spinge a sede nel cibo non è quello di cui il nostro corpo ha bisogno se noi fossimo in contatto con il nostro corpo il nostro corpo ci direbbe direttamente c'è bisogno di questo bisogno di quell'altro ma lo siamo sempre meno siamo sempre più nella mente e sempre meno nel corpo per cui siamo sempre più nelle sovrastrutture e sempre meno nelle strutture e perché come dicevo prima questa società ci porta in quella direzione dobbiamo fare un passetto indietro e attraverso purtroppo dico io l'uso dell'intelligenza della conoscenza della mente dobbiamo anche capire quali sono i passi indietro da fare e quali sono le cose che in questi secoli abbiamo conquistato e che vanno tenute perché non è rischiava di per via l'acqua dove non vivi dentro però bisogna stare un attimo attenti il cibo dicevo ha un significato simbolico queste persone che vedete adesso sicuramente non mangiano non fanno quello che fanno perché hanno bisogno di un sostentamento biologico basta guardare le facce e si capisce che c'è qualcosa di morboso a certi livelli rispetto al cibo per il bambino non ha bisogno di mangiare quella roba di è un gioco è un simbolo sta giocando col cibo non ha bisogno di mangiare delle creme per esempio una cosa nel mio ultimamente guardando il bambino ci sono molte persone sempre di più guardando la pubblicità che fanno la radio la televisione che hanno cani stanno aprendo negozi ovunque di prodotti per gli animali questo significa che ci sono sempre più persone che gli animali perché altrimenti sono più e purtroppo questi cani vengono trattati come esseri umani vi do una notizia se non la sapete i cani e anche i gatti mi sembra non riescono a metabolizzare gli zuccheri come facciamo noi cioè hanno il pancreas e la milza che funzionano in maniera diversa dalla nostra per cui dare le caramelle e i dolci ai cani e ai gatti è ucciderli cioè provocarli una leucemia o qualcosa di simile perché loro hanno esigenze diverse dalle nostre e un metabolismo diverso dal nostro se noi vediamo lo stesso cibo nostro rischiamo di fargli il male e difatti i tumori legati al sistema linfatico dei cani sono in aumento a dismisura andate a parlare con i veterinari perché gli esseri umani danno la caramella al cane che è la cosa più sbagliata del mondo come darla ai bambini è la cosa più sbagliata del mondo perché il bambino non ha bisogno di una caramella ha bisogno di altre cose poi una volta ogni tanto per gioco per soddisfare le cose va benissimo non sto dicendo questo però molto spesso i adulti danno la caramella al bambino per una gratificazione personale non perché il bambino serve e questo ci deve far pensare perché noi non stiamo facendo del bene stiamo portando l'animale e il bambino in una direzione che non sarebbe giusto che andasse ci deve far pensare non sto dicendo giusto sbagliato da un punto di vista come si può dire biologico la cosa non è corretta poi da un punto di vista umano dobbiamo pensarci un attimo cosa significa questo il cibo ha degli effetti sul nostro non è che noi mangiamo il cibo e anche il cibo di più come dicevo prima e la cosa è gratis diciamo che paghiamo il prezzo star davanti alla televisione a mangiare patatine e a bere poca po la porta gli adolescenti ad essere in queste condizioni oppure per esempio si parlava un attimo fa di cosa significa usare i gatti dove accade con l'animale da ingrasso non come l'animale da compagnia perché questo succede anche questa persona qua questa signora qua per fare quello che ha fatto ha dovuto usare il cibo in una certa maniera e il cibo oltre chiaramente alla palestra ha formato il corpo in una certa maniera proprio di guida in sollevamento pesi se lo do qua devi mangiare un totale di prodotti animali al giorno quelli che fanno sollevamento pesi prima di fare sollevamento pesi mangiano 6 o 7 bistecchi o una roba del genere perché c'è bisogno di quel tipo di energia se vuoi fare quel tipo di sforzo però fanno prezzo il corpo si trasforma si trasforma diventa diverso da quello che dovrebbe essere questo signore è il lotatore di sumo loro per fare quello che fanno non bisogna di ingrassare per cui hanno una dieta particolare questo signore pesa 350 kg pesata non so se ancora è nulla e un giorno siamo all'alto abitare la prima pianta di una casa dovevano portare in ospedale perché altrimenti moriva e non passava da nessuna porta e non sapevano che accidenti fare per portarlo via non so quanto mi è accostato questo signore ma hanno dovuto scopercare il tetto della casa andare con una gru tirarlo su col letto e tutto e portarlo in ospedale e in ospedale c'era un altro problemino dove lo mettiamo? dove abbiamo un letto che va bene perché insomma questo signore che mi ha detto perché io non conosco è stato uno dei più famosi aiutatori di sumo in Giappone era in una stata in Giappone alla fine della sua vita ha creato non pochi problemi in uno stato giapponese perché spero che io spero sempre che uno si assuma le buone responsabilità e che abbia pagato lui in tasca propria tutti questi tutti questi lavori che sono stati fatti per prendersi l'ora della sua salute ma penso che in Giappone l'abbiamo fatto ricordate quando ci sono stati quei tre signori mercenari quattro erano che avevano rapito in Libia mi sembra che sia stato quei quattro italiani di cui uno è morto e poi li hanno riportati in patria in Italia c'è stato un buon movimento di salvare questi qua che erano mercenari che erano persone che erano andati là a fare la guerra per soldare erano stati rapiti lo stato ha pagato il riscatto li hanno riportati in Italia con un'area militare e queste robe qua con il presidente Berlusconi mi sembra che ci fosse allora che è andato a fuori all'aeroporto come se fosse gli eroi nazionali erano di mercenari contemporaneamente con loro avevano rapito anche due giapponesi il Giappone ha preso questi signori li ha importati in patria come ha fatto gli italiani con la differenza che quando sono scesi dall'aereo gli ha presentato il conto e gli ha detto ah portati in patria ci ha costato questi soldi prego qua tirateli fuori perché voi siete privati cittadini e per quelli che mi riguarda pagate voi quello che mette il danno che vi provoca c'è una mentalità un po' di darsi nel rispetto qua in Italia questo è un effetto del cibo però è un effetto della carenza del cibo questi sono diciamo la è una carenza di vitamina D che provoca il rachitismo questa era molto diffusa nelle nostre zone però vorrei andare dietro i tantissimi anni per trovare questa cosa però per dire la carenza di cibo può provocare questi problemi come la carenza di cibo può provocare questi altri problemi che queste persone qui sono state portate scientamente o meno a essere quello che sono insomma come anche quest'altra non è una cosa bellissima da vedere almeno che a me non piace poi non so se avete visto lo spot molto bello che è fatto sull'anoressia di questa ragazza che si guarda allo specchio e fanno vedere allo specchio e lei si vede grassa si vede dei rotuli di grassa e poi andiamo a vedere perché lo spostano la macchina da presa la realtà è magrissima però lei si vede grassissima perché ha un problema di testa la pulimia e l'anoressia che sono due aspetti uno all'opposto dell'altro e lo stesso problema non cambia molto ma per dire che anche il cibo può essere usato per andare contro se stessi in un senso o nell'altro sia l'eccesso sia la carenza del cibo possono provocare qualche problemina per cui il cibo su di noi ha un effetto e quello che è un effetto sul corpo però storicamente è dimostrato che ha anche un effetto su tutti gli altri livelli del nostro corpo se voi leggete un po' l'istoria dai greci sono stati i primi a parlare di certe cose ma comunque di tutte le parti del mondo quando si parla di essere umano si parla sempre di tre aspetti dell'essere umano si parla sempre del corpo della mente e dello spirito che sono tre aspetti che non sono separabili in oriente questa è una cosa non pensativa è la normalità quando parlano di corpo loro intendono automaticamente il corpo mente e spirito qualsiasi cosa qualsiasi cosa agisse sul corpo agisse anche sulla mente e sullo spirito qualsiasi cosa agisse sullo spirito agisse anche sulla mente e sul corpo è tutto legato non si possono scendere questi tre aspetti per cui quando io faccio qualcosa al mio corpo faccio qualcosa al mio mente faccio qualcosa al mio spirito inteso come quello che vi dicevo prima cioè la mia capacità di fare delle scelte nella vita di trovare la mia strada trovare il mio percorso da fare mi impedisco mi freno questa cosa ricordatevi che la trinità è una cosa di cui sappiamo tutti conosciamo tutti questa è il modo di vista degli orientali quest'altro è il modo di vista dei greci si chiama Trichede o Trichede come volete voi l'hanno usato i celpi l'hanno usato i greci l'hanno usato i tibetani l'hanno usato tutti questo simbolo qua che ha vari significati è la Dea vista nei vari aspetti le tre manifestazioni dell'uomo e le tre età dell'esistenza questi sono alcuni dei significati che sono stati dati perché questo simbolo è stato usatissimo in tutte le parti del mondo con varie facettature non so l'avrete visto invece di queste spirali ci sono tre uomini o tre Dee cioè comunque è sempre una trinità è sempre qualcosa che è tre in uno e che non sono separati non si possono separare da noi quello più usato è questo che però ha un simbolismo che è un articolo non pensate che quello che viene trasmesso adesso sia nato dalla mente sia stato fatturito dalla mente di qualcuno che aveva eliminato l'anno scorso tutte queste cose qua hanno una storia vecchia di 5.000 anni 6.000 anni 10.000 anni c'è una storia dietro al perché si usano certi simboli se poi siano stati usati per certi aspetti manipolati a uso e consumo di qualche religione o di qualche setta o di quello è un altro discorso quello è un altro discorso il simbolo di Hitler la voce uccinata non è altro che il simbolo usato dai buddhisti con le aste messe alla rovescina per dire no non ha inventato nulla Hitler ha preso quello che già esisteva e l'ha trasformato a suo uso e consumo per cui anche qui c'è questo aspetto di Dio che vi ricordo per definizione se voi leggete il dottor l'acqua o gli ebrei c'è scritto Dio è colui che non si può nominare per cui nel momento in cui lo nomino io sono costretto a dargli una valenza materiale cosa che Dio non è per nominarlo noi siamo stati costretti a usare tre parole padre figlio e spirito solo a dividere in tre perché altrimenti non possiamo usare i tauristi dicono il tao è quella cosa che non si può nominare o meglio che quando lo nomino non è più tao che è la stessa cosa che dicono gli ebrei l'hanno detta in due posti diversi del mondo più o meno contemporaneo sono arrivati tutti alla stessa conclusione cioè se io prendo Dio e lo trasformo in qualcosa di umano non è più Dio molto semplicemente diventa l'interpretazione che l'essere umano dà di Dio che va bene vero non sto dicendo che è giusto o sbagliato va benissimo però dobbiamo avere coscienza che è così l'essere umano cosa ha fatto ha semplicemente trasportato Dio traslato Dio alla sua immagine e somiglianza mettendo dentro in Dio le tre aspetti corporemente lo spirito l'ha chiamato figlio lo spirito santo e padre lo stesso non parla niente è sempre la stessa modalità di approccio cioè noi abbiamo umanizzato Dio perché a noi torna più conto ci serve per capire e abbiamo divinizzato per certi aspetti l'essere umano portandolo il più vicino possibile a quello che è l'immagine che noi abbiamo di Dio per cui noi ci siamo divisi in tre parti corpo mente e spirito perché abbiamo bisogno di capirci meglio quello che facciamo a giorno d'oggi è di fermarsi molto sul corpo negli ultimi dopo Freud si è fermati molto anche sulla mente e poi c'è stato negli anni settanta in poi una grande ricerca della cosiddetta spiritualità molti di gente è andata in India a cercare spiritualità a cercare chissà cosa quando la spiritualità è dietro la porta guarderò dentro di noi non è importante perché quello che dicevo prima la spiritualità è un aiuto nel cielo che noi facciamo della nostra strada di quello che è meglio per noi di dove vogliamo andare di quello che serve a noi il mio maestro diceva tu devi mettere in pratica i tuoi talenti cioè se tu metti in pratica i tuoi talenti sarai una persona felice per cui la felicità è proprio nel cercare di essere noi stessi cioè quello che veramente siamo non quello che gli altri vorrebbero che fossimo quello che la cultura ci ha detto che noi siamo quello che mio padre voleva che io diventassi no quello che io sono veramente questo mio maestro ne ha trovato anche i miei talenti secondo lui lui non mi conoscevamo assolutamente non sapevamo cosa facevo e uno dei talenti che mi ha trovato è stato cucinare per gli altri e io gli ho detto grazie che ha fatto ho avuto questo ristorante la cucinella l'ho conosciuto insomma per 10 anni e per cui gli ho delgelato ero apposto con questo talento però ho continuato perché questo è quello che mi viene meglio io non è che posso fare dell'altro perché a me piace questo da fare e ho continuato sono carocare non ne parlo non è che sono carocare non ne parlo perché ho studiato perché no perché ho tagliato montagne di cipolle ho pelato montagne di patate ho cotto tonnellate di riso integrale questa è la mia esperienza non è non ne ho altre posso dirvi cosa questo ha provocato su me e sulle persone che mi hanno avvicinato questo sì è più o meno quello che vi sto dicendo è il riassunto di quello che ho fatto io attenzione che non abbiamo degli atteggiamenti e questi atteggiamenti questo nostro modo di fare lo creiamo spessissimo con cose che sono diverse dalle nostre aspettative guardate questa visita secondo me il risultato era un malo Linus sto così quando mi sento depresso quando si è depressi è molto importante assumere una determinata postura è totalmente sbagliato stare eretti con la testa ben diritta perché così ci si sente subito meglio infatti per provare almeno un pochino di piacere al proprio avvenimento bisogna per forza stare in questa posizione cioè in realtà noi abbiamo un certo atteggiamento rispetto alla detta e adesso usiamo il cibo per stare in quella situazione perché è quella che conosciamo è quella che sappiamo cos'è non è viceversa il cibo è uno strumento che noi usiamo per vivere ma non solo per una questione biologica per vivere per cui è la soddisfazione più immediata dei sensi il cibo guardate quando avete mangiato un krafton avete visto il bambino di prima o quelle altre domande diciamo che soddisfazione che c'è ed è una soddisfazione immediata il cibo nel giro lo zucchero soprattutto nel giro di pochissimo tempo ci dà qualcosa purtroppo nel giro di pochissimo tempo sparisce anche e noi cosa facciamo andiamo a mangiare ancora il zucchero e continuiamo a mangiare il zucchero perché lo zucchero viene bruciato di fretta fino a quando non troviamo il motivo reale per cui noi abbiamo mangiato quel krafton che non è il krafton è altra cosa ricordate simbolico quello che dicevo prima krafton è simbolico se noi riusciamo a capire che l'eccorregamento tra il simbolo e il krafton forse mangiamo anche meno krafton fino a quando ci limitiamo a dire che il dottore ha il maldito che il krafton e ne fa male per cui non lo mangio perché me l'ha detto il dottore la volta che io sono lì che non ne posso più se c'ha anche al dottore e mi ne mai al krafton va bene di qualcosa bisogna morire di dire quelli che arrivano a questi livelli ma è umano vero non sto dicendo che è sbagliato uno ha un qualcosa che li preme dentro e usa il sistema più veloce che ha per soddisfare questo bisogno e il cibo è velocissimo è velocissimo più leggero è il cibo l'alcol lo zucchero è più veloce è l'effetto noi di solito per digerire una bistecca ci mettiamo 12 ore più o meno dalle 8 alle 12 ore per cui prima che la bistecca faccia effetto deve fare tutto un giro l'alcol se facessi la stessa cosa pensate voi bevete tre bichini di vino e prima che siate gli altri devono passare 12 ore uno si è anche dimenticato che ha bevuto i tre bichieri di vino no ma ecco viene assorbito dalle mucose boccali per cui vai e cipro subito e voi bevete due bichieri di vino e vi sentite subito meglio immediatamente che finché sono due ma può andare anche vero cioè non è così grave quando sono tre quattro cinque comincia a diventare un piccolo problema ma il problema non è il vino che è anche quello perché l'alcol è tossico per il fegato è dimostrato scientificamente che l'alcol è tossico per il fegato però non è il vino è il motivo per cui io devo continuare a bere il vino perché due bichieri mi bastano ce ne vogliono 3 4 5 6 8 10 2 litri perché adesso vediamo un attimo perché però io no un perché perché sono sempre tanti non sono le risposte che ci danno sono sempre relative sono soggettive non esiste niente di oggettivo questo lo trovate su questo sito che c'è scritto sotto vi dice le cose di cui noi abbiamo bisogno noi abbiamo bisogno di 8-15% di proteine 15-35% di grassi e si 50-37% di carboidrati circa al giorno negli anni su questo sito peraltro troverete tutta una serie di fattori che vi dimostrano di dati filmati che vi dimostrano che non si può dire solo proteine grassi e carboidrati dipende da che tipo di proteine che tipo di grassi che tipo di carboidrati e alla fine vi dice sì quegli animali sono più difficili da usare che quelli vegetali e ve lo dimostra con filmati con filmati fatti da istituti di sanità inglese cioè non cose a livello matoneale fatte da istituti di per cui noi in realtà se guardiamo l'aspetto scientifico basta che guardiamo questa roba qua e siamo a posto non è che quando noi abbiamo mangiato 10% rispetto al peso corporeo più o meno di proteine 15-35% quando abbiamo mangiato così in teoria non è mai essere a posto il problema è come dicevo prima che noi siamo abbastanza diversi nella data perché non tutti hanno lo stesso bisogno di un uomo diverso gli uomini sono diversi dalle donne eccetera 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 attenzione attenzione non meglio o peggio diversa da quella scientifica secondo me le due cose vanno integrate non vanno una giusta l'altra sbagliata vanno semplicemente integrate però secondo me escludendo questa si rischia di perdere una faccia della medaglia si vede solo la medaglia da una faccia ci significa che dietro c'è un'altra faccia che è quella energetica come diciamo noi i cibi possono essere divisi in tre grandi categorie una sono i cibi che hanno un effetto su di noi abbastanza netto e che sono i cibi vegetali di solito i cibi vegetali su di noi non hanno né un effetto troppo espandente né un effetto troppo contraente semplicemente sono abbastanza netto in generale poi in Italia i cibi vegetali si può discutere però ci sono quelli più espandenti e quelli più contraenti i cibi vegetali sono questi i cereali queste sono alghe queste qua sono verdure i cibi che hanno un effetto contraente su di noi sono quegli animali questo penso che li conoscete tutti vero? piatto tipico della nostra zona manca il vicino dei vivi però non può correre questi altri i cibi che espandano invece sono tutti quelli che sono estratti dai vegetali io sto schematizzando i cibi che sono estratti dei vegetali sono quelli che sono estratti i succhi per esempio succo d'uva fermentato o anche non fermentato comunque è estratti è una parte dell'originale l'olio è un estratto del vegetale i succhi questi cibi hanno su di noi un effetto espandente in oriente hanno chiamato in ve lo dico così per la conoscenza quello che espande e yang quello che contrae io uso poco queste due parole quando faccio le conferenze ma mi piacciono molto perché sono corte invece di dire espandente dico in invece di dire contraente dico yang e quando siamo d'accordo che in vuol dire espandente yang vuol dire contraente faccio più presto a dirlo io sono uno che cerca di non sprecare per cui l'effetto in è un effetto che espande l'effetto yang è un effetto che contrae qui si vede meglio quali sono i cibi all'interno del mondo vegetale per esempio che hanno più effetto espandente più effetto contraente cioè tutti i cibi tutte le piante che vanno verso l'alto che si espandono su di noi avranno un effetto che si espandono tutti i cibi che vanno verso il basso che si contraggono avranno un effetto che si contraente su di noi la carne è molto contraente perché è il vegetale concentrato dall'animale per produrre la stessa quantità di proteine a livello animale ci vogliono 12 volte di più terreni per produrre le stesse proteine vegetali per cui l'animale ha concentrato di 12 volte le proteine vegetali per cui è molto più contraente comunque l'alimento che contrae di più è il sale è quello più contraente di tutti perché vi ho messo questo schema perché basta guardare spesso per capire l'effetto che fa il cibo su di noi una pesca sarà molto più contraente che una carota che invece va verso il basso per cui è più compatta la pesca è un'energia diciamo verso l'alto fatalità quando nasce la pesca quando c'è caldo quando tutto è fuori e la carota quando nasce quando comincia il freddo comincia ed è sottoterra ed è riparata ed è contratta per cui se io mangio una pesca avrò su di me un effetto espandente se mangio una carota avrò un effetto un po' più contraente nel mondo vegetale l'effetto non è molto diverso non cambia molto nel mondo animale invece il l'effetto contraente è molto più grande perché mi ho detto questo per tornare a quello che si diceva prima e cioè io ho voglia di mangiare il grafen la pastilla la signora di prima avete visto che fanno perché ho questa voglia beh è molto semplice da capire in linea di massimo questa signora ha voglia di un cibo che espande significa che è contratta cioè che ha una tensione ogni volta che noi abbiamo una tensione andiamo a cercare il modo per liberarci da questa tensione perché si dà fastidio a tutti dà fastidio lo stress la tensione e la via più veloce per liberarsi dalla tensione è usare cibo che espande lo zucchero l'alcol sono molto espandenti però ancora di più sono le droghe da quelle più leggere la marijuana che sono espandenti a quelle più pesanti che sono ancora più espandenti le cocaina le eroina queste robe qua hanno un effetto molto espandente sulle droghe per cui tutte le persone che fanno uso di droghe sono alla ricerca di una fuga dalle tensioni stanno cercando di trovare una via per allentare determinate tensioni viceversa chi mangia carne chi mangia tanta carne chi gli dice oggi se non mangio la mia bistecca non lo sto bene è perché ha bisogno di contrazione cioè si sente troppo insicuro troppo spasso troppo spanto come si diceva per cui ha bisogno di un cibo che lo porti al centro che lo contragga un po' però siccome che spesso le persone sono molto sparse si sentono molto insicure mangiano molto cibo animale che per essere compensato nell'effetto immediato chiama anche il vino per dire no è classica la soppressa con la ponetta e il vice del vino questo è classico che da un punto di vista di equilibrio è perfetto mangio la carne bevo il vino to accetta fatalità però è uno da una parte uno da quell'altra per cui prima andiamo tutta da una parte prima andiamo tutta da quell'altra e continuiamo e di qua e di là e di qua e di là e non siamo mai al centro i miei maestri di macrobiotica dicevano quando sei così mangia il riso integrale perché il riso integrale è quello che ti porta al centro dal punto di vista biologico dal punto di vista energetico dal punto di vista di composizione il riso integrale è uno dei cibi più bilanciati che c'è è quello che ha il rapporto sodio e potassio più vicino alle nostre esigenze sapete che perché ci sia ricambio cellulare se il nostro metabolismo il rapporto sodio e potassio deve essere di 1 a 7 una parte di sodio 7 di potassio questo è il nostro equilibrio questo permette che lo scambio cellulare avvenga in maniera corretta il riso e i cereali in genere hanno il rapporto 1 a 7 il più vicino possibile alle nostre esigenze biologiche per cui è vero mangiare il riso integrale però attenzione che mangiare solo il riso integrale diventa monotono e il monotono crea tensione per cui poi se mangiate solo il riso integrale o spaccate la faccia a qualcuno per sfogare la tensione che avete creato o andate ad un certo punto si strafogate di qualcosa che fa l'effetto esattamente opposto perché non è vero che tutti i cibi sani in quanto sani si possono mangiare finché si muove non è stare attenti anche lì a quello che si mangia e a quello che non si mangia c'è una classifica che si fa in linea di massimo ovvero molto spagna di quelli che sono i cibi che hanno un effetto spandente di quelli che sono i cibi che hanno un effetto contraente però questa è tutta la rettiva nel senso che trovate anche punti di vista diversi quello che preme più a me è di cercare di farvi capire che dal punto di vista come si può dire di scelte alimentari che facciamo noi siamo molto più influenzati dall'ultima parte che vi ho detto che è quella che ci ho messo meno a dirvi che è quella che mi ha portato via meno tempo che dalla prima parte che è quella della biologicità delle esigenze biologiche del corpo cioè quello che vi dicevo prima tutti noi mangiamo prevalentemente perché mi piace e il mi piace significa vado a prendere un cibo che soddisfa una mia carenza allora detto in parole povere quello che dico sempre io è ditemi come mangiate e vi dirò chi siete oppure ditemi chi siete e vi dirò come mangiate e a spanne ci azzeco spesso a spanne è vero poi nei particolari non sono umano non mi ne voglio fare in palo però spessissimo ci siamo andati molto vicini sia ai caratteri delle persone quando dicono cosa mangiano sia a cosa mangiano quando vedo che caratteri hanno perché non è difficilissimo ci vuole solo un po' di allenamento e un po' di osservazione non è così difficile perché noi ci muoviamo molto istintivamente e l'istinto è cercare l'equilibrio il corpo ha bisogno costante di cercare l'equilibrio questo è quello di cui ha bisogno il nostro corpo di conseguenza il cibo essendo la fonte di energia più veloce che abbiamo a disposizione usiamo il cibo per cercare di tornare in equilibrio che è un equilibrio instabile perché non è mai stabile l'equilibrio è sempre variabile però il problema del cibo qual è? che viene digerito e quando è digerito ha finito il suo scopo per cui noi dobbiamo rimangiarlo più veloce è la digestione e più spesso dobbiamo usare quel cibo per tornare in equilibrio in realtà il trucco qual è? è cercare altre vie per l'equilibrio non solo il cibo ma altre tecniche qualcos'altro tipo sono steso e agitato come diceva la psicoperapeuta va a farti aggirarsi ma forra neve mettete la fiata e va a farti aggirarsi se fessi aggirarsi e invece rimangare no perché anche quello è un metodo il cibo è molto più comodo devi solo aprire un pacchetto di cracker o un pacchetto di buffer o un bicchiere di vino è molto più veloce ed è molto più comodo si può fare davanti alla televisione davanti al computer invece solo andare a camminare bisogna mettersi le scarpe mettersi la sciampa mettersi il freddo mettersi il cappotto andare fuori far fadiga anche questo però qualche volta ha un effetto di camminare ha un effetto che è rimasto noi perché siamo dei pigri perché per cultura tendiamo a fare la cosa che ci viene più facile e il cibo è la cosa che viene più facile vi ricordo però che si paga un prezzo non è gratis questa cosa e il prezzo sarà sempre in proporzione più alto più noi usiamo il cibo per scopi diversi da quelli nutrizionali più forte lo usiamo per scopi diversi da quelli nutrizionali più il prezzo che paghiamo è alto da me è venuto un signore tempo fa a fare una consultazione che era il papà di un mio allievo e questo signore aveva fatto un infarto e insomma quest'allievo l'ha convinto di andare a me per rispettare e la prima cosa che gli ho detto è che tu devi eliminare il pubblico e questo qua è un contadino che si fa da sempre se lo faceva il suo nome non so che sono per cui lui quando gli ha detto questa roba qua quasi sveniva però lui mi ha detto sinceramente mi l'ha detto che è dottore cioè poi abbiamo parlato un po' e l'ho convinto l'ho sentito un mese dopo e lui mi ha ringraziato mi ha detto è una vita che non mi sento così bene seguendo un minimo di consigli guardate non ho detto niente di straordinario cioè non sono un medico per cui mi sono guardato bene a dare consigli medici e ho semplicemente detto quello che farei io a posto suo e stando attenti non erano troppo prodotti animali e per esempio il suo affidio gli diceva papà hai toccato più e lui ho visto più che mai salami e lui guardava una parte e diceva e lui ma una fettina mi tanto sei tu stesso e lui ha fatto un sorriso così però ho detto beh qui una volta di tanto perché stavano giusto come me una volta di tanto non troppo spesso perché se no mi ha chiamato lui mi ha chiamato per dirvi che non si è mai sentito così bene a 72 anni per cui il cibo ha un effetto in un senso e anche nell'altro e molto spesso è normale affrontare la cosa purtroppo cosa succede per i debiti nel menu da me perché ha fatto un infarto se veniva prima forse non faceva l'infarto forse forse perché l'infarto non è legato solo al fatto che mangiare il salame c'erano altri motivi sicuramente però insomma un aiutino al corpo ad affrontare un problemino il cibo va non è che sia così da sottovalutare qual è l'aiutino che possiamo dare di più noi però è quello di capire del perché noi stiamo usando troppo spesso un certo ciclo di cibo io trovo assolutamente perdonati la parola ridicola il fatto che su un pacchetto di sigarette ci sia scritto il fumicile tutti quelli che fumano sanno che il fumicile cosa serve dietro è lo Stato che come si dice allora si pare il culo perché vende un prodotto che sa che è mortale per certi aspetti o che comunque è nocivo e ci guadagna allora per far vedere che si dà da fare ci scrive sui pacchetti il fumicile ma tutti lo sanno che il fumicile tutti quelli che fumano lo sanno che il fumicile uccide è la parola ma tutti sanno che il fumicile non occorre che ci sia scritto sul pacchetto di cigarelli per cui la domanda è perché io fumo sapendo che mi fa male o perché mangio i peperoni sapendo che non li digerisco per andarci una cosa molto più semplice che non sia così traumatica come uccidere o perché mangio le patatine fritte e dopo che le mangiate le mesta lì però la prossima volta che le mi capita il sottotiro e d'aghe dentro un'altra volta perché quando do la risposta a questo perché avrò cominciato ad aiutare un pochino e la risposta non è mai nel cibo il cibo ha un significato che è quello che vi ho detto prima che il livello massimo a spalle è comprare e spalle o anche se mangio un cibo che le spalle è perché sono contratto se mangio un cibo che comprare è perché sono espanso questo a spalle perché poi nel particolare bisogna stare andati attenti non è così però per capirci quello che posso fare stasera è questo io per spiegare queste cose qua faccio seminari di un weekend minimo anzi due weekend per cui voglio un po' di tempo per capire queste cose però era per dare un input sul fatto che non basta guardare il cibo da un punto di vista nutrizionale basta guardare il cibo anche da un altro punto di vista perché così abbiamo una visione completa di come significa il cibo per noi non è che uno esclude l'altro assolutamente l'aspetto nutrizionale è importante tutto quello che viene detto su mangiare i cibi vegetali mangiare i cibi biologici e tutte queste cose qua è fondamentale perché è molto importante però questo diventa meno importante se non si guarda anche l'altro aspetto e anche viceversa se io guardo solo l'aspetto energetico e non guardo anche l'aspetto nutrizionale rischio di perdere una parte dell'importanza del cibo se neanche le cose vengano messe insieme vi voglio far vedere la prima faccio vedere questa perché secondo me è carina dell'aspetto degli opposti un po' mi dispiace per le persone ordinate non sapranno mai quello che si prova nel ritrovare una cosa che non ricordano più di altro cioè anche nel disordine c'è un aspetto positivo come il giorno e la notte no il giorno esiste perché c'è la notte questo lo è nello gli anni non si possono separare il giorno e la notte esistono perché sono collegati l'uno all'altro io per dire che c'è la luce devo definire il buio e per dire che c'è il buio devo definire la luce il buio è assenza di luce ma se devo definirla la luce se voglio dire cos'è il buio e per cui anche nel disordine c'è l'aspetto positivo che è quello della soddisfazione di trovare una cosa che non trovare più vi faccio vedere e poi concludo questo è una storiella è una storia che secondo me io la faccio vedere perché secondo me è divertente ma fa sì che le cose non siano viste sempre in maniera così riccita il titolo è vivere come Dio vuole c'era una coppia di vecchi 85 anni ognuno ed erano sposati da 60 anni non erano migliorari ma vivevano bene perché avevano economizzato a loro casetta avevano malgrado la loro età erano in buona salute e ciò grazie a lei che insisteva sempre perché essi mangiasse lo sano e inoltre facevano degli esercizi dicevano molto purtroppo un giorno malgrado facessero tutta questa sana vita hanno avuto un incidente tornando da una vacanza è caduto l'aereo e siccome sono stati bravi erano bravi sono saliti direttamente in cielo e sono andati in paradiso e sono arrivati in paradiso e c'è San Pietro che li accoglie e li ho portati in questa casa una casa lussuosa con dei mobili bellissimi una cucina attrezzata con apparecchiature moderne una cameriera a loro disposizione e i loro due erano stupefatti di questa cosa San Pietro disse loro è venuto in paradiso ora questa è casa vostra il vecchio domandò a San Pietro quanto tutto ciò sarebbe costato pratico niente rispose San Pietro voi avete vissuto come Dio comanda e questa è la vostra ricompensa il vecchio guarda dalla finestra e vede un campo di golf di prima classe come non aveva mai visto sulla terra proprio le belle robe quanto costa giocare in questo club domandò a San Pietro e lui gli dice siamo in paradiso è gratis tutti i giorni puoi giocare è gratis tutti i primi poi arrivano qua vanno al ristorante e vedono di tutto c'è su questo tavolo per cui ci sono frutti di mare carne dessert bevande di ogni tipo qualsiasi cosa e San Pietro dice non chiedetemelo è tutto gratis potete prendere quello che volete voi il vecchio guarda tutto ciò un po' nervoso poi guarda sua moglie e infine chiede a San Pietro dov'è il cibo dietetico senza grassi senza polisterolo e il caffè decaffeannato il meglio di tutto ciò che voi potete mangiare tutto ciò che volete senza ingrassare e senza preoccuparvi delle malattie vi dice San Pietro voi siete in paradiso per cui potete fare quello che volete voi mi dite che non è necessario fare del moto dice il vecchio no? solo se lo si desidera risponde San Pietro non sono obbligato a mangiare senza zucchero senza sale posso bere della birra certo le risponde San Pietro qui si può mangiare e bere tutto ciò che ci fa piacere il vecchio prodosso moglie le le disse senza te e i tuoi cereali di merda avremmo potuto essere qui già da 15 anni allora la morale è corretta nel tutelio godermos è qua senza aspettare mai il paradiso però godersi non vuol dire smaccarsi godersi vuol dire prendersi di libertà e questa qua è la prova che il paradiso si può trovare anche su questa terra senza aspettare io di solito quando c'è qualcuno che mi ha sentito io sono considerato una persona abbastanza rigida con quello che faccio e con quello che dico e io questa cosa la faccio vedere apposta perché insomma il mio modo di fare è un modo di fare deciso io non mi considero rigido lo sono stato sicuramente però negli ultimi vent'anni 15 anni sicuramente non sono più stato vi dicevo prima sono vegano ma sono vegano benissimo mangio carne e pesce però dentro di me io sono vegano io sono convintissimo che si possa vivere benissimo senza mangiare nessun prodotto animale nessuno neanche il miele è vero che è un prodotto animale io non mangio formaggio non mangio miele non mangio nulla a casa mia poi se mi invitate a casa vostra cosa sto dire a dire no io voglio insalattina anche il riso integrale e questo e quell'altro pescato no sto a casa mia a quel punto lì piuttosto di stare a casa mia vado dove vado e mangio quello che mangio non per bandarmi io quest'estate mi sono fatto 600 chilometri a piedi camminare in sanguaglio in popostena se avessi applicato un essere vegetaliano là sarei morto perché là Ramon cioè prosciutto omelette o mangi quello o non mangi sapete io entro dentro e vi dico io sarei vegano e il mio è lo che ti dicono perché là è quello per cui o ti adatti o muori in quei casi lì e io mi sono adattato se no stavo a casa però non andavo a fare il cammino in popostena io preferisco vivere però mi sento dentro un buro tanto vegano perché lo sono da 30 anni per cui questo è il mio modo di tenere il mondo questo non vuol dire che bisogna applicare delle regole ferre e se vai fuori da quella regola lì sei finito vi ricordo che la regola per essere tale ha bisogno delle eccezioni altrimenti non è più regola si chiama fanatismo è diverso capito la differenza tra fanatismo e regole fanatismo è guai se vai fuori da quella parte lì che soprattutto io ho sempre ragione e tu hai sempre fatto la regola è io ho le mie regole vediamo di confrontarci se vanno bene quelle tue o non vanno bene quelle tue questo è quello che come la vedo io sempre applicando la regola è una forma di costruzione di nian perché lo nian funziona ci vuole un po' di nian ci vuole un po' le eccezioni altrimenti diventa troppo lecita troppo contraria ho finito nel senso che avrei potrei trovare il mio corpo per tanto tempo perché ho vissuto per fortuna ho tante cose da contare però mi rendo conto già ho messo molta carne sul fuoco come si dice per cui se siete interessati potete anche contattarmi ma eventualmente se ci potete fare altre iniziative io non ho nessun problema a farle io tengo regolari corsi di cucina energetica tra virgolette che sono legati soprattutto non alle ricettive ma a cercare di capire come cucinare i cibi perché vanno meglio a me non mi piace dare le ricettine le ricettine dico sempre a chiedere voi che trovate sui libri vi consiglio due o tre libri ci sono delle ottime ricette per cui basta prendiate le leggete e le fate il mio scopo è altro è quello di creare consapevolezza di creare cultura che è diverso dal valore di città bene se avete domande io sono qua grazie forse complimenti tanto grazie per la passione e i contenuti lei ha un blog uscito qualcosa dove ero abbracciando fuori abbiamo messo il materiale perché è interessante volevo chiedere se poter specificare un attimo meglio la questione del cibo che espande e il cibo che contrae voglio dire nel senso mi spinge un attimo un aspetto proprio fisiologico faccio un esempio che diceva se vanno il cibo che contrae voglio dire che sono espanse un po' spiegare un altro quello che cosa intende per sentirsi o essere espanse a parte il contratto non lo posso capire però faccio un po' di capire c'è un cibo che contrae perché sono espanse c'è nulla ah oddio devo fare la parola dice che capisce come si parla di contratto ma non di espanse perché è facile da capire la contrazione però non capisce cosa si intende quando uno mangia un cibo contratto vuol dire che è espanse espanse questo significa che non ha fiato che non ha energia è come una molla che carichi se tu carichi una molla che è contratta quando la molli parte se una molla non è contratta tanto quando la molli fa tutto o se vuole se tu carichi una molla sul bar la carichi quando la carichi parte se la carichi sulla sabbia la molla scorfonda e basta non si carica per cui è come sentirsi con i piedi per terra oppure sentirsi con i piedi della messa abbiamo avuto uno che è un insicuro è una persona che non è contratta perché uno contratto è carico parte uno che invece non ha l'affiato non ha forza non ha si dice che è espanso espanso nel senso che la sua energia non è concentrata l'energia tende a dispergersi e questo si nota nella fiacchezza della non voglia fare le cose un aspetto del non contratto degli espansi e dell'itimismo è sempre colpa degli altri non è colpa loro e le danno sempre la responsabilità di quello che succede che invece le persone contratte tendenzialmente devono avere colpa niente tendenzialmente o è merito mio chi non ha un centro fa fatica anche ad attribuirsi non c'è un centro è un concetto che non è semplice si fa molto più semplice molto più facile capire la tensione che è l'espansione perché perché a parte che la tensione è una cosa molto diffusa perché noi siamo costretti a come si dice a dare guardi gli nervi per cui è la cosa che conosciamo meglio però ammettere di essere piatti significa mostrare una debolezza per cui si fa molta fatica a far vedere la nostra parte è molto più facile far vedere la nostra parte forte che è quella si spacca la faccia invece la parte debole è vi faccio vedere vi faccio vedere che non so mi dà la sua parte la faccia la tua paura è scusate avete la piatta è a posto? ah ciao bene grazie la parte la parte la parte debole io non devo far vedere solo se no mi spacca la faccia per cui per non far vedere che sono debole cosa faccio? mangio carne ti faccio un esempio che forse serve per capire io ho avuto come cliente una signora che ha invitato dal padre più di unica una industria piccola industria 40-50 operai però il padre è morto di infarto e lei si è ritrovata a dover gestire queste industrie lei era vegetariana faceva yoga non le interessava fare la mese però piuttosto che far andare a stare a carne strutturare lei ha preso in mano l'azienda e veniva a farsi trattamenti da me e dopo un po' non mi dice non ce la faccio più io non mangiare carne perché in questo mondo di pesce e cani io se non mangio carne questi mi mangiano per cui lei a un certo punto vegetariana ha tantissimi anni si è messa a mangiare carne perché altrimenti siccome erano tutti maschi quindi la sua e nessuno di suo protroparte si è messa a mangiare la carne per sentirsi un po' più strutturata è resistita poco perché poi alla fine ha fatto una scelta secondo me la più sciaggia che poteva fare e ha venuto l'azienda perché ha detto io non ce la faccio io ho dei principi e è riuscito a venire l'azienda questo è stato un pezzo di anni fa quando le aziende sicuramente ancora non c'erano lo so però lei a un certo punto non poteva resistere in quel mondo lì stressatissimo senza mangiare prodotti animali che creano un'attenzione per mangiare prodotti vegetali devi fare un altro tipo di vita devi essere un po' più tranquillo e non avere questa concorrenza anche se anche lì si potrebbe giocarci su non è che tutti i vegetariani sono fatte moglie e tutti i cammini lui sono come si chiamò Lewis campione olimpionico di 100 metri Carlo Lewis lui era vegetariano Einstein era vegetariano che ne so c'erano tantissimi di atleti che sono vegetariani per cui insomma mi ha detto che c'era solo sapere che si fa prego infatti come c'è le mie definizioni tra esparso e contratto e contratto sembra quasi che sia uno positivo e uno negativo no come gli ha messi lei si è spasso sono una figura più negativa no posso capire quello che dici sì allora sono gli eccessi che sono negativi no perché dico non è per forza non è una persona negativa se uno non 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 ha il carattere assolutamente d'accordo io per far capire questa cosa devo usarli estremi perché sono noi molto più facili da capire però tra gli estremi in mezzo c'è un nucleo per cui quello che conta non è essere spasso essere contratti essere noi stessi e rispettare quello che è il nostro carattere ci sono persone che sono un po' più aggressive e persone che sono un po' meno e di questo bisogna avere coscienza però le persone che sono un po' più aggressive è meglio che siano un po' più attenti di mangiare prodotti animali quelli che lo sono un po' meno anche se ne mangiano qualcuno ogni tanto li può fare anche bene in certi momenti perché agredeos dal greco aggressività significa andare verso non significa fare del male significa avere la capacità di andare verso per cui la giusta aggressività serve a tutti nella vita perché bisogna che andiamo verso noi siamo esseri sociali no? è l'eccesso di aggressività che rischia di diventare pericolosa per sé e per gli altri come è l'eccesso di apatia che rischia di diventare per sé e per gli altri sono gli eccessi che sono pericolosi ognuno deve trovare il proprio equilibrio però per dire l'esempio che faccio io è sempre se io uso in eccesso un cibo quando io dico che di un cibo non riesco a farne meno devo capire qual è il significato di quel cibo perché devo guardare l'opposto di quel cibo io quando ero giovane mi dicevo se io non ho almeno uno o due bichieri di vino a pasto non mi sento bene detto questo significa che io ero molto contratto perché nel momento in cui io mi sono perché il vino è rinassato nel momento in cui io ho fatto altre cose che mi hanno permesso di essere un po' più rinassato un pochino di più perché io sono quello che sono io ho anche smesso di bere vino non è che ho smesso di bere vino non sentivo più la necessità di bere vino se c'è lo bevo se non c'è è lo stesso non cambia niente questo non vuol dire il vino fa bene il vino fa male quello è un altro discorso a me interessa relativamente questo discorso mi interessa di più che uno attraverso il cibo possa capire il più se stesso state attenti perché è molto facile cadere negli estrelli ed è molto facile personalizzare la cosa quando si tocca un armo scoperto si dice ci suona subito quella roba lì per cui dovete stare attenti io non voglio personalizzare assolutamente nulla voglio semplicemente ripeto devo fare degli esempi estremi perché la cosa venga capita perché è più facile capire gli estremi che capire le cose immediate però di fatto la maggior parte delle persone sono in mezzo sono in mezzo sto togliamo o per esempio chi fa la scelta se è una scelta di fare di essere vegetariano sembrerebbe che la fa anche con l'altro non lo so allora io dicevo ho gestito uno dei primi ristoranti vegetariani in Italia per cui insomma c'è una storia dietro a questa cosa qua però ultimamente un vegetariane è un po' identica per quale motivo essere vegetariani va bene non è un problema è essere ideologicamente vegetariani che non va bene perché l'ideologia è una cosa che è costretta è dentro una scatola chiusa secondo me essere vegetariani vuol dire fare delle scelte di vita che sono funzionali alla salvaguardia dell'ambiente di se stessi e del pianeta io lo faccio perché penso che sia la forma migliore per salvaguardare il pianeta e anche me di conseguenza o viceversa se lo vedete non per il dogma non perché sono contrario all'incisione degli animali io sono contrario all'incisione degli animali gratuita sono contrario allevamenti intensivi per quello che mi riguarda ma l'uomo ha sempre vissuto mangiando le razze che sono un po' più biologicamente un po' più basse perché non c'è un'alternativa poi mi dicono gli animali hanno l'energia gli animali hanno una sensibilità gli animali hanno delle emozioni adesso io non voglio toccare dei tasti che sono strani però nel mio percorso ho fatto anche dei percorsi per parlare con le piante e vi posso garantire che le piante cantano le piante hanno un'energia le piante hanno un'emozione le piante sono come gli animali è che è un suono diverso non si vede per cui stiamo attenti a non dare schemi troppo rigidi perché tutto quello che noi mangiamo ha un'energia e di conseguenza andiamo a intaccare tutto energeticamente andiamo a colpire sempre qualcosa perché noi ci dobbiamo nutrire di qualcosa per cui io sono assolutamente dell'idea che essere vegetariani anzi essere vegani sarebbe la scelta migliore per questa società e per questo mondo e per questo diverso perché sarebbe quello che consuma meno energia in assoluto e ci permette di risparmiare non più di risorse su questo non ci piove da questo a chiudersi dentro una scatola a me non piace semplicemente con tutto il rispetto però per quelli del fanno io non ho mai sopportato per il mio tipo di carattere di biologia io non mi sono mai iscritto a un partito l'ultima volta che ho avuto una tessera è stata quella dell'azione cattolica perché me l'aveva fatta mia madre non perché ce la devo io la volevo io però poi questo non vuol dire che non ho delle simpatie o delle antipatie però a me di chiudermi dentro una scatola non mi piace voglio avere la mia libertà di scelta poi ci sono le cose che mi piacciono quando si parla di spiritualità il mio amico mi ha detto una volta ma tu vai in chiesa no tu credi in Dio certo che credi in Dio e perché non vai in chiesa e io ho detto quando ero piccolo mi hanno insegnato che Dio è dappertutto per cui non lo trovo solo in chiesa lo trovo ovunque ma qui mi dicono che bisogna andare in chiesa per trovare Dio e io mi dico guarda mi dispiace io ho la mia strada e faccio io Dio lo cerco da un'altra parte non è necessario cercarlo lì però per la maggior parte delle persone che invece per molte persone io sono un ateo sono una persona che non crede invece io ho un mio credo che è la mia ricerca personale di Dio e io sono molto credente da questo punto di vista però è la mia ricerca che all'interno di questa ricerca di Dio c'è la ricerca del cibo del modo migliore per vivere del modo migliore per non far del male e di altri cioè di tutte queste cose qua per me sono tutte collegate queste cose qua non c'è n'una che è separata dall'altra il cibo ha un grande vantaggio che è un ottimo strumento perché lo usiamo tutti i giorni tutti i giorni per cui noi tutti i giorni possiamo incidere sulla nostra mente sul nostro spirito mangiando il cibo più adatto a noi non sta a me a dire se è la carne il pesce la carota o l'insalata quello è un altro discorso possiamo parlarne però deve essere quello che è più adatto a noi al di là dei dogmi al di là dei principi al di là dei migliori come dicevo Shawa il dottore dicevo l'uomo sano è in grado di mangiare di tutto ma l'uomo sano è sempre in grado di sede il cibo giusto al momento giusto questa è la salute riassunta il pensiero di Osawa che ha scritto 40 libri riassunto in due reti se questo si comporta comunque una testa di se stessi cioè non da spegnere il pulsante più di un interruttore per amarsi un attimo di ascoltarsi è anche una capacità che abbiamo un po' perso questi ultimi decenni perché se guardiamo quello che si diceva questi ultimi decenni per appunto che mangiamo prevalentemente cibi industrializzati che è un po' più di naturale per non tanto di chimica dentro sia per i trattamenti ma anche per gli additivi e quindi se guardiamo i risultati che questo ha portato nella nostra società e c'è da prendere paura perché comunque questi cicli sono fatti manare fondamentalmente di tutto perché hanno già parte che le persone muovono da problemi cardiaci problemi di tumore e poi per le medici che devono prendere per curarsi e quindi la morte naturale è stata un po' una rarità insomma però dopo di questo non ci pensiamo mai cioè effettivamente è così che va quindi bisogna andare così e quindi viviamo un po' in un limbo in un limbo in cui ci hanno calato e ci fa comodo così perché sono convinto un bimbo di città che più giornate un interruttore ascoltare se a tessi e ritornare a mangiare alcun cibo e ascoltare anche il cibo che ci fa più bene una volta liberati da questo da questo rispetto ci porta a stare più bene perché mangiare prevalentemente cereali i cibi biorossi fondamentalmente ti porta ad una maggiore sicuramente attenzione e ti porta anche ad agire questi cibi vanno ad agire sul nostro corpo vanno ad agire con la mente anche sulla mente che portano anche a due dimensioni di una attenzione forse che volessi diversa rispetto a quei lati in cui viviamo adesso però questa è veramente una grande malattia della nostra società e non pensiamo più che non ci ascoltiamo più o quanto poco per almeno distingue fra il pensare e l'ascoltarsi si ascoltarsi però ascoltarsi proprio come stiamo inizialmente io quando che ho cominciato la scuola con la cobiotica una delle cose che ci facevano fare era una palla di riso integrale e di masticare 50 volte a bocone e io a quel tempi là dicevo questi sono fuori e tu scopri che una palla di riso così quando è finito a parte per i manassi e non sono tanto per i mesi però sei sazio sei sazio il problema del masticare il problema della preghiera prima dei pasti che ci facevano dire una volta che poi quando ero piccolo la ripetevo in maniera meccanica mi hanno dato gli strumenti per ripeterla in maniera intimale in maniera meccanica è un momento di dire ok adesso mi fermo faccio una cosa sacra perché il cibo che mangio è importante per il mio organismo abbiamo visto che effetti che fa il cibo sull'organismo amino da quel punto di vista lì per cui cerco di fare la migliore maniera possibile per cui mi fermo un attimo faccio due minuti di meditazione prendi la meditazione quello che vuoi tu e poi cerco di masticare secondo me fare questo è già un grande passo avanti ed è dal mio punto di vista più importante per la persona di del cibo che sta mangiando poi c'è anche l'altro aspetto che è il cibo che sta mangiando che effetti che fa quella bistecca lì che stai mangiando per cosa che dazio si paga per produrre quella bistecca lì lo dicevo 12 volte più terreno arricolo serve non mi ricordo più quanti centinaia centinaia di volte più acqua serve per avere lo stesso numero di proteine per cui è un prezzo alto che paghiamo per mangiare la carne però se noi cominciamo a masticare e a stare lì in quello che facciamo è già un grande passo avanti ed è per quello che io dico di più alla gente non mangiare mai niente in piedi stai mangiando un pacchetto di crack ti fermi ti siedi e mangi di crack non finché stai facendo altri 10.000 robe quindi Grinamundi che era un grande maestro di yoga 5 lauree diceva lo yoga quello da fare è lo yoga quotidiano cioè la consapevolezza di ogni atto che facciamo durante la giornata cioè io sono seduto sul water sono seduto sul water sto facendo da mangiare sto facendo da mangiare guardo la televisione guardo la televisione e no sono seduto sul water penso a quello che devo fare dopo nel contempo lì in giornale oppure faccio da mangiare e contemporaneamente dico ma dopo cosa devo fare aspetta un attimo che già ti sto facendo che mi manca ma ti muoli tutto ti si brucia la roba perché ti viene dimenticato di fare quell'altra roba e avanti così no quello è disperdere l'energia lui diceva bisogna starci nelle cose che fai questo è molto difficile questo è molto difficile perché la società ci spinge direzione esattamente opposta dobbiamo rendere e se ti fermi non rendi per cui lo stimolo continuo che ci arriva e questa è la grande sfida è di andare contro la società capitalistica come vi volete non penso che in questo momento ci siano tanti alternativi la società capitalistica però per capirci pensate solo a una cosa per la società capitalistica se va giù un ponte che è un disastro se va giù un ponte il pillo interno aumenta il prodotto loro interno aumenta perché? perché c'è della gente che lavora per costruire quelle ponte per cui il prodotto interno loro aumenta siamo fuori di vianda ovviamente è vero? è una società scritta predica per aumentare il prodotto interno loro basta buttare giù un po' di ponte e abbiamo aumentato il prodotto interno basta due o tre terremoti e gli scambi che sono stati sui telefonati degli agenti che è sono abbastanza evidenti insomma basta che ci siano due o tre terremoti e il pillo interno sale alle stelle però è allucinante questa cosa noi come dicevo prima io preferisco manifestare per la pace non contro la guerra per cui io non sono contro il sistema capitalista non mi piace però faccio quello che devo fare io quello che io ritengo sia giusto fare non contro il sistema capitalista ma a favore del pianeta Terra e siccome che sul pianeta Terra ci sono anch'io anche a mio favore sono egoista non ho nessuna regola a dire che è il mio nato di egoismo sano ma è un atto di egoismo anche non solo grazie 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 avete altre domande? però il sistema capitalista esiste perché c'è una cultura capitalistica nelle persone se a me mi propongono di buttarci un ponte è perché c'è una cultura c'è tutta una come ha detto lui le persone devono imparare a guardarsi dentro prima di è un gatto che si mangia la cura non so da che parte bisogna cominciare so che da quante parti bisogna cominciare voglio dire questo perché le persone singole che hanno la responsabilità di questo tanti dicono il sistema danno la colpa al sistema ma il sistema e i singoli non li vediamo assolutamente sì sono d'accordo però il sistema è una cosa inesistente il problema il problema è anche di stuola dall'altra parte quanto quanto noi siamo disposti a pagare accedere a mettere a disposizione perché questo avvenga bisogna fare un sacrificio perché questo avvenga e è vero che il singolo io dico sempre se c'è un litro di acqua basta che ci metti dentro una goccia di colore rosso questa acqua è invinata per cui sarebbe buono tenerla pubblica tutta che resti quello che è però dall'altra parte questa storia che noi dobbiamo partire da noi per molta gente è veramente un grosso sacrificio una grossa difficoltà è molto più facile è molto più facile cominciare a non si può dire a seguire delle regolette cioè a darsi delle regolette senza stargli troppo a pensare mi devo responsabilizzare perché se no mi responsabilizzo qualche punto meno l'ora cioè uno si deve parcioso a un certo punto se quanti così però cominciamo a darci delle piccole regole che è anche la ricoltura biologica ma già l'ideologico è già un passo avanti rispetto a prima per dirvi una cosa adesso l'MS ha detto che la carne lavorata è cancerosa io ho fondato una cooperativa che si chiamava Regimentazione Scienza Verona nel 1978 sono uno dei fondatori la prima cooperativa a Verona e noi al 1979 volantinavamo per le strade di Verona dicendo negli insaccati ci sono le sostanze che si chiamano nitrati e nitriti che servono per conservare e mantenere la carne rossa che sono cancerogene 1979 noi gli dicevamo non perché noi avevamo un fluido perché c'era qualche pancato scienziato e aveva scritto vero 1979 e quando ho sentito l'MS che è stato una cosa ho detto ce l'hanno messo per partire domani cioè da me sono un po' dei anni ed è da sempre che è così vero i nostri nonni usavano il sale poi siccome che il sale la carne non restava rossa hanno iniziato a usare il salitro cioè i nitrati i nitrati si performano in nitriti perché per essere in nitrati per essere trasformati dice che eliminati il nostro organismo viene trasformato e viene lavorato in nitriti e i nitriti sono cancerosi ma questo è da sempre cioè dagli ultimi anni almeno e adesso all'improvviso la mia domanda è come mai perché adesso sì e l'anno scorso due anni fa o quanto si sapeva benissimo anche dieci anni fa questa storia come è la sua riflessione un po' di diciamo un mio amico mi ha detto siccome che ci sono quelli che sono che hanno venuto in bianche che sono in crisi hanno pagato qualcuno perché le caratterose vengono messe in crisi così vengono più calmi bianche non so se è questa la risposta devo provarsi non lo so c'è qualcosa perché noi non sappiamo di sicuro l'unica cosa è che bisogna che noi ci creiamo una nostra coscienza io mi sono informato e da quando ho scoperto questa roba qua il mio uso di insaccati si è ridotto all'inizio a insaccati fatti da persone che sapevano cosa facevano e cosa ci mettevano detto e poi a condivinarli a meno che mi capita a qualche festa assaggia tutto acqua del salame sì ok assaggia ma non sarà mica tre fette di salame che mangio all'anno che mi provocano problemi o che metto le discussioni in essere vegano non mi sento assolutamente metto le discussioni a tre fette di salame per carità ci vuole un altro insomma per cui è vero che ci sono dei passaggi da fare sulla coscienza però bisogna stare un attimo attenti a non puntare troppo su questo aspetto perché è un aspetto che può prendere ansia fermarsi a meditare non è una cosa facile e facile è una cosa più semplice del mondo meditare vuol dire per esempio quello che si faceva una volta una volta si faceva l'esame di coscienza facciamo ancora l'esame proviamo a farci l'esame di coscienza senza pensare al peccato io dico sempre ai miei clienti prendi una pagina fai una riga in mezzo e scrivi ogni sera quello che ti è piaciuto di quello che hai fatto durante una giornata prima e poi quello che non ti è piaciuto e poi lo rileggi così sai che hai fatto quello che ti è piaciuto e quello che non ti è piaciuto e il giorno dopo lo rifai in altra volta ci metti due minuti non è che ci vuole anni per fare questa roba qua e ogni giorno sei stato attento a quello che hai fatto a quello che non hai fatto a forza di essere attento prima o poi qualcosa si svegnerà se mi sono svegliato io non perché sia il più sveglio di voi se mi sono messo su questa tralla possono farlo tutti perché io ero uno scendico per definizione e sono capricorno perché i capricorni prima che si muovono ce ne vuole se ce l'ho fatta io per farcela prima è che il mio vantaggio di essere capricorno è che non muovono mai capricorno dico non muovono mai per cui io ho continuato nonostante che altrimenti non fosse facile ma ho continuato io posso solo invitarvi a riflettere non posso fare altro perché non sta a me decidere se è giusto che mangiate carne o che non mangiate carne a meno che lo veniate da me mi tenete un parere allora lo do è il mio lavoro mi pagate e io non parere però io non sono per esempio contrario non ce l'ho con quelli che fumano anche se io non fumo più da 15 anni non sono mai però per dire quando vedo uno a fumare una sigaretta io so che soddisfazione ha a fumarsi una sigaretta per cui ha tutta la mia solidarietà e la mia comprensione però deve anche sapere che si sta eliminando cioè ci sono le due cose mi sento di dire guarda che mi stai uccidendo guarda no lo sa benissimo basta che non te le fumi in faccia fa quello che te voglia non è un problema per me e questo vale per qualsiasi cosa guardate che il giudizio su di noi e sugli altri è la cosa peggiore che possiamo fare giudicare vuol dire io ho ragione e tu hai torto questo è il giudizio osservare un altro discorso non è un ricorso diverso bene bravo bene grazie di avermi ascoltato è stato un piacere grazie 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 grazie